E' iniziata ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni amministrative a Porto Azzurro. Il primo evento pubblico organizzato dai quattro contendenti alla successione di Maurizio Papi porta la firma della lista civica l'ancora del candidato a sindaco Fabio Cecchi che ha aperto ufficialmente le porte del suo forum cittadino sabato 7 aprile con una affollata assemblea pubblica che si è tenuta presso l'hotel Belmare. Dopo aver esposto le motivazioni della sua candidatura, Fabio Cecchi ha presentato il primo dei sette progetti a costo zero preparati dalla sua compagine. Un progetto che riguarda partecipazione, comunicazione ed ascolto del cittadino con particolare attenzione a quest'ultima fase. Pronta ad entrare in funzione già nei primissimi giorni di vita della nuova amministrazione una vera e propria struttura di ascolto in grado di dare risposte immediate alle istanze, di catalogarle e addirittura di far esprimere i cittadini attraverso dei sondaggi fatti telefonicamente con sms o email sugli argomenti più importanti della vita della comunità longonese. Il forum cittadino l'ancora per Porto Azzurro ha già annunciato la propria seconda iniziativa che si terrà giovedì 12 aprile, come sempre al Belmare, dedicata agli esercenti commerciali e delle attività turistiche. Intanto la lista Vivere Porto Azzurro, che fa capo al candidato a sindaco Massimo Correani, ha diramato un comunicato stampa con cui prende posizione su alcuni dei più importanti argomenti esposti nel proprio programma. Non esiste futuro se non ci ricordiamo del nostro passato, dice fra l'altro il comunicato. Il nostro paese ha il dovere di ritrovare le sue radici e la sua storia perché solo così può riscoprire la sua identità e la voglia di sentirsi vera comunità. Vogliamo investire sulla cultura e sulle tradizioni, dice ancora la nota della lista di Correani, attraverso manifestazioni ed eventi che coinvolgono la cittadinanza sia nel periodo estivo che in quello invernale. Sarà nostra premura, continua il comunicato, porre particolarmente attenzione ad una valorizzazione dell'archivio storico, nonché della biblioteca comunale. Questi rappresentano infatti un patrimonio insostituibile della nostra comunità e quindi di ogni cittadino in particolare. Verrà promossa, conclude la nota di Correani, l'istituzione di un consiglio comunale dei ragazzi affinché venga acquisita coscienza civica, ascoltandone le esigenze ed affiancandolo nella realizzazione delle eventuali proposte.